L'acqua salva la vita, ma può portare morte quando manca, quando è troppa, quando è inquinata e facilita il diffondersi di gravi epidemie. Tu puoi portare acqua pulita. Manda subito un sms al 45593 o chiama da telefono fisso. Insieme a Oxfam darai acqua a chi non ce l'ha per bere, per lavarsi, per una vita dignitosa. 45593. Dona ora. Grazie a tutti.